buongiorno a tutti e benvenuti al nostro podcast di tradizio io sono aurelio porfiri oggi è un podcast un po diverso da quelli che di solito facciamo di solito parliamo di temi legati alla religione o di temi legati anche alle idee politiche alle idee culturali e in questo caso siamo comunque sempre nell'ambito della cultura ma parliamo di arti figurative e parliamo di un tema un pochino di nicchia rispetto a quello che è il grande mondo dell'arte figurativa che è quello dell'arte giapponese e forse alcuni di voi sanno che io nei miei trascorsi a Hong Kong recenti dove sono stato per più di un anno ho studiato pittura cinese che tuttora pratico tutti i giorni e con degli insegnanti molto bravi quindi mi sono molto appassionato al tema dell'arte orientale ed è un qualcosa che mi interessa molto poi nel quando era Hong Kong ho fatto anche una visita a Tokyo e quindi ho potuto anche beneficiare dell'arte giapponese che non conoscevo molto conoscevo soltanto quello che è appunto l'autore di cui parleremo oggi che è Okusai per la sua famosa onda la grande onda sul mare di Kanegawa che tra l'altro c'è una mostra qui a Roma in questi giorni a cui ho partecipato per chi volesse andare a vedere al museo di Roma vicino Piazza Navona una bella mostra con alcuni degli autori di cui parleremo oggi. Fatta questa enorme premessa soltanto per dire che ho il piacere di ospitare la professoressa Silvia Besco la professoressa Besco è professoressa associata all'istoria dell'arte giapponese all'università Ka Foscari di Venezia è ovviamente una saggista ed è l'autrice di un interessantissimo libro che si chiama Spontanea Maestria il Ryakuga Haya Osie di Katsushika Okusai pubblicato a Venezia dalle edizioni Ka Foscari. Grazie professoressa per la sua partecipazione Grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere, è un privilegio poter discutere di una passione che penso ci accomuni, quindi grazie di nuovo Grazie a lei. Allora, innanzitutto per i nostri ascoltatori che non dovessero conoscerlo potrebbe dire in pochi tratti chi era appunto Okusai perché Okusai ovviamente è un nome importantissimo per tutti coloro che amano l'arte giapponese ma anche io credo che sia implicitamente conosciuto da tanti che magari non amano l'arte giapponese ma che una volta nella loro vita hanno visto qualche manifestazione della sua famosa grande onda sul mare di Kanegawa che si trova praticamente poi riprodotta in ogni formato sui bicchieri, sulle copertine dei libri quindi ci potrebbe spiegare chi era questa personalità tra l'altro interessantissima veramente interessante è autore di una produzione sterminata Anche perché sì Allora, Okusai sicuramente non era, non faceva parte delle elite o delle scuole pittoriche molto note, molto conosciute in Giappone stiamo parlando del periodo Edo quindi lui nasce nel 1760 e poi muore in tarda età nel 1849 proprio per il fatto che non faceva parte di classi elitarie ha un percorso molto interessante prima come stampatore e quindi riproduce molte stampe va alla scuola di Sciunro per esempio che era uno di Sciuncio anche noto nel periodo Edo per rappresentare il mondo quello cosiddetto dei piaceri fluttuanti del mondo fluttuante quindi tutta una corrente artistica che si interessa della società contemporanea che è una società molto diversa quella del Seicento rispetto alle società governate dagli Sciun proprio perché è una società mercantile e quindi anche i mecenati sono di una categoria proprio diversa rispetto all'aristocrazia o agli Sciun e quindi l'arte di Okusai è quella che rispecchia forse le richieste di una società che è molto cambiata una società come si dice che è quella che riguarda il Ukiyo quindi il mondo fluttuante che è un termine di origine buddista all'inizio però proprio grazie alla differenza che si può trovare in tanti omofoni in Giappone con la stessa pronuncia ma scrivendolo con litogrammi diversi da mondo della sofferenza diventa il mondo dei piaceri e i piaceri nella fattispecie nel periodo Edo quindi dal 1600 al 1868 quando ci sarà l'apertura del paese all'occidente sono i piaceri legati ai quartieri di piacere per esempio quindi alle case da tè alle cortigiane al teatro Kabuki con un grande interesse anche per i mei show quindi un certo tipo di rappresentazione della natura i mei show sono i luoghi famosi non è detto che andassero nei luoghi famosi però questi nell'immaginario collettivo diventavano un punto di riferimento e Okusai diventa molto famoso in Giappone proprio perché lui riesce a interpretare questo sentimento popolare perché per la prima volta lui rappresenta proprio le classi popolari che agiscono all'interno di questo mondo così affascinante e lo fa con queste capacità straordinarie sia dal punto di vista tecnico perché molto presto lui diventa un artista indipendente naturalmente la sua cultura è basata su tanto studio di pittura tradizionale quindi stiamo parlando della scuola Cano per chi la conosce quindi questi tratti d'inchiostro molto i contorni molto forti con dei colori campiti in una certa maniera particolare riprende in maniera lo vedremo magari poi anche facendo alcuni esempi di opere che sono magari meno conosciute ma proprio partendo da questo tipo di tradizione lui riesce a interpretarla in chiave estremamente contemporanea anche con delle performance che suscitano grandi interessi e sdoganando se possiamo utilizzare questo termine un modo che era detenuto da una certa classe elitaria per farlo conoscere anche attraverso il divertimento come proprio dimostrano i manuali di didattica pittorica No, come lei tra l'altro dice bisogna dire ai nostri ascoltatori che appunto Ogusai era quello che si può dire anche un virtuoso proprio assolutamente ci sono vari racconti che mi sembra anche lei fa nel suo libro appunto delle sue capacità virtuosistiche di dipingere su superfici enormi oppure anche quella invece di dipingere sul chicco di riso mi pare di ricordare o c'è anche la famosa storia che a me piace molto devo dire in realtà quella di una competizione fra lui e un altro pittore e lui praticamente fa intingere le zampe a una gallina nell'incorso rosso va a passeggiare e poi praticamente quelle diventano mi sembra dei piaceri le foglie d'acero sul fiume Tazuta però anche questo non è casuale lui sta riprendendo un racconto molto famoso di uno dei racconti letterari l'Ise Monogateri quindi il racconto di Ise nella quale si dice appunto che le foglie dell'acero rosso cadessero sul famoso fiume Tazuta e lui si inventa questo espediente anche molto divertente molto accattivante lui era un grande performer assolutamente proprio perché con queste sue capacità incredibili un talento incredibile nella rappresentazione anche pittorica è proprio per questo che lui riesce a fare dei manuali di didattica pittorica in apparenza così semplice proprio per cui ha il totale controllo del mezzo tecnico per cui lui è un grandissimo pittore c'è questa produzione pittorica sterminata durante tutta la sua carriera con questa sua anche insoddisfazione continua dicendo che io inizio all'età di sei anni ho iniziato a dipingere però non sarò mai soddisfatto neanche all'età di novant'anni vorrei dice avere ancora degli anni di fronte a me per poter l'età di 110 lui dice a 110 sarò in grado di forse fare il divino qualcosa del genere ecco quindi diciamo era tra l'altro appunto per quello che io lo conosco dai libri che ho letto e dalle opere che ho visto era sicuramente un tipo molto particolare e lo dico nel senso buono del termine è vero si dice gli artisti sono tutti un po' particolari ma lui appunto e tra l'altro essendo anche giapponese di solito ci immaginiamo i giapponesi tutti compassati così lui invece sembrava molto istrionico come carattere aveva infatti un seguito di allievi che non era una cosa comune all'epoca era anche molto disposto a condividere alcune delle sue capacità non tutte perché in alcune lettere agli editori lui lo specifica che lo sta facendo sì anche questi manuali pittorici per insegnare alle persone però è evidente che poi alla fine per riuscire a ottenere risultati che noi ben conosciamo attraverso appunto la sua pittura e le sue stampe la questione è un po' diversa però è interessante che lui voglia condividere questa sua capacità ripeto non è un tratto comune neanche all'interno del periodo Edo nel quale ci sono altre grandi figure come appunto Maruyama Okio per esempio per quanto riguarda la pittura naturalistica poi Hiroshige stesso sono due caratteri completamente diversi molto 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 diversi nonostante operino nello stesso periodo storico e una cosa che a me anche ha colpito c'è un altro aneddoto su Ogusege io credo sia in realtà anche una una storia molto profonda cioè parla quando mi pare lui era già in tardetà e gli andò a fuoco la casa e gli andò a fuoco la casa e lui aveva la figlia una delle figlie perché lui aveva cinque e gli andò a fuoco la casa e lui invece di salvare i dipinti salvò i pennelli questa è una parte che mi rimasta molto impressa in realtà cioè perché lui forse pensava va bene se io salvo i dipinti salvo i dipinti e va bene se salvo i pennelli invece posso rifarne quanti ne voglio io credo esattamente questo perché appunto lui i dipinti ne poteva fare basta immaginare non solo dipinti ma anche dal punto di vista grafico immaginiamo solo la serie dei manga sono 14 volumi in cui lui disegnava continuamente mi scusi a interrompo volevo dire che sono disponibili anche i libri in italiano c'è una raccolta che rimanga un libro di circa 500 pagine quindi veramente un'encecolopedia del disegno si potrebbe dire ed è disponibile in italiano tra l'altro ha un costo non eccessivo mi pare sui 50 euro hanno fatto questa bella edizione anostatica ma anche questo suo travolgente lui era affascinato da tutte qualunque stimolo provenisse dal mondo circostante per cui è significativo che lui abbia voluto salvare i pennelli perché quelli sono il mezzo con il quale lui può esprimersi in qualunque momento in qualunque luogo quindi anche quando lui fa questo viaggio appunto a Nagoya per poi fare queste poi era molto tipico dell'epoca fare delle gare di pittura per esempio nelle quali lui naturalmente inventava qualsiasi tipo di immagine però accanto a questa sorta di sregolatezza lui è considerato anche se insomma bisogna dire un po' con le pinze questa cosa come uno dei pittori Kijin quindi come uno dei pittori eccentrici assieme ai più famosi non so Shogasoha Shoaku e Ito Jakuchu proprio perché aveva questa capacità a fronte di una maestria incredibile di creare anche paesaggi anche la serie per esempio delle 36 vedute del Fuji Fugaku Sanjiurokei anche delle 100 vedute del Fuji quello è un tema molto classico ma il suo modo di interpretarlo diventa completamente diverso proprio per anche io mi sono occupata faccio questa parentesi dei manuali di didattica pittorica che sembrano una produzione minore proprio per dimostrare quanto questo non sia assolutamente vero perché ci può essere una lettura ulteriore rispetto al semplice suddivisione per esempio geometrica di tutte le figure dell'universo oppure usare la lingua giapponese per creare delle figure queste diventano un modo di trasmissione della tradizione perché sono come dei pretesti per spiegare qualcos'altro il secondo manuale soprattutto io trovo adesso vorrei anche riscriverlo proprio questo testo perché è proprio una preghiera buddista per quello che mi riguarda e tutto si può leggere in maniera molto superficiale imparando appunto a disegnare attraverso l'iragana che è questo alfabeto fonetico che tutti i ragazzi i bambini giapponesi apprendono a scuola prima degli ideogrammi però una lettura più approfondita anche grazie alla ripetizione di certi suoni diventa veramente può essere letto a un livello molto più profondo e molto più complesso e credo che la grandezza di Okusai sia proprio in questo di riuscire a farci entrare in un universo diverso da quello meramente tecnico tra l'altro volevo dire appunto che il legame fra calligrafia e pittura ovviamente è enorme anche nella pittura cinese e ovviamente non lo è in quella occidentale dove non c'è questo rapporto tra calligrafia e pittura ma lì è quasi strutturale al fare arte ed è questa un pochino a volte la difficoltà di coloro che come me sono occidentali e devono apprendere la pittura e di dover apprendere anche la scrittura dei caratteri che certamente non è una cosa semplice è molto complessa anche perché proprio la calligrafia e la pittura partono dallo stesso strumento che è il pennello e dell'inchiostro quindi proprio per fare eserci per imparare e i cinesi lo insegnano i manuali di pittura cinese dai quali Ocusai poi trae ispirazione e insegnano proprio questo quando io riesco a padroneggiare la calligrafia allora io posso iniziare a fare la pittura e poi certi tipi di soggetti nella pittura per esempio il bambù per esempio l'orchidea che sono estremamente vari sembrano semplici ma in realtà non lo sono affatto consentono una serie di variazioni che solo padroneggiando proprio la calligrafia poi io riuscirò anche ad applicarmi alla pittura ma poi c'è un discorso che mi sembra interessante fare su Ocusai allora bisogna dire che nella percezione delle persone una percezione poi forse neanche sbagliata comunque i giapponesi sono un popolo abbastanza isolato nel senso sono molto chiusi in se stessi ecco si potrebbe dire e se questo è vero adesso posso immaginare quanto lo era al tempo di Ocusai però in realtà poi sappiamo che comunque Ocusai ha avuto rapporti anche con l'occidente con l'arte olandese mi sembra di ricordare quindi lui ha comunque noi parliamo nell'arte occidentale dell'influenza dell'arte giapponese che sicuramente sta da enorme specialmente sugli impressionisti però bisogna pure vedere specialmente nel caso di Ocusai la cosa contraria esatto proprio perché allora gli olandesi erano gli unici occidentali ammessi in Giappone nel 600 infatti il Giappone si dice in quell'epoca era sa-koku quindi paese chiuso e in realtà c'erano allora delle delegazioni c'erano stati ovviamente i portoghesi i gesuiti portoghesi spagnoli nel 500 che erano arrivati sulle coste del Giappone però gli unici che lo shogun tollerava perché non è che li accettasse veramente li tollerava erano questa comunità di olandesi a decima che è questa isola di fronte alla baia di Tokyo sicuramente gli artisti come Okusai e altri avevano avuto modo di avere contatti con dei testi soprattutto scientifici direi degli olandesi e di apprendere anche noi non sappiamo esattamente quale fossero i materiali che poi questi artisti avevano gli artisti giapponesi avevano a disposizione però è certo che conoscevano sicuramente la prospettiva occidentale non la usavano in maniera deliberata non perché non fossero capaci ma proprio perché era un modo di rappresentare la realtà che non ricospondeva alle loro esigenze alcuni artisti esplicitamente come Shiba Kokan per esempio facevano uso di queste tecniche occidentali anche della pittura a olio per esempio con dei risultati che a noi sembrano anche un po' naive sotto certi punti di vista però che invece sono estremamente interessanti proprio del del modo che il Giappone nonostante la chiusura fosse interessato a ciò che proveniva dall'occidente perché l'unico riferimento prima era la Cina il continente e quindi tutto quello che veniva dalla Cina diventava la base culturale per tantissimi secoli in Giappone e poi c'è anche tutta questa corrente che rappresenta i Namban cosiddetti siamo nel 500 quindi questi barbari del sud con i loro abiti particolari che diventano attrattivi però sicuramente Okusai era molto ricettivo anche rispetto a questi stimoli esterni che poi lui applica proprio anche nelle sue stampe nei dipinti forse meno erano più tradizionali nel senso più rispondenti a questo ukiyo ma nelle stampe lui sperimenta anche nei manuali sperimenta questi suggerimenti dei Rangaku si chiamano quindi gli studi olandesi Ran è l'idogramma per scrivere Ran Oranda è la pronuncia di Oranda Allora le volevo chiedere lei sicuramente conoscerà un libricino di Paolo Linetti che si chiama Il segreto di Oranda di Ocusai ecco sì io ce l'ho fatto avanti un libricino che ho proprio acquistato alla mostra qui di Roma allora io direi un attimo parlare di questa famosa onda di Ocusai perché in realtà c'è una cosa per cui la gente lo conosce è per questo famoso dipinto tratto dalle 36 veduto da queste curvi questa stampa tratta dalle ecco allora secondo lei ma perché questa stampa perché io ho visto altri dipinti di Ocusai sono straordinari veramente cioè non meno impressionanti di questo ma perché proprio questa immagine ha avuto questa grande risonanza questa è una domanda che si sono posti diversi studiosi e da diversi punti di vista perché oggettivamente Kanagawa Okina Miura si chiama in giapponese quindi la grande onda a largo della costa di Kanagawa è diventata un'icona conosciuta in tutto il mondo diventa quasi un brand addirittura nel mondo occidentale appunto è oggetto di merchandising per esempio è un po' come la gioconda esatto esatto quindi molti tra l'altro Christine Gooth questa ottima studiosa americana si è occupata di questo ha scritto un libro addirittura sulla grande onda di Kanagawa proprio per spiegarsi come mai abbia avuto un successo tale e lo ebbe sia in Giappone all'epoca perché è un modo diverso di rappresentare diverse scusi il bisticcio questioni allora c'è la forza della natura che viene rappresentata in un momento che sembra drammatico ma in realtà non lo è perché anche dal punto di vista strettamente tecnico e geometrico è un capolavoro di geometrie e di punti di vista molto particolari c'è tutta l'arte giapponese dentro a questa stampa perché c'è l'importanza della natura quindi questo rapporto fortissimo che esiste fra le forze collegate allo scintoismo lì è lo scintoismo è fatto se infatti tutto ciò che riguarda e questa capacità perché viene confusa come se fosse una specie di tsunami ma in realtà non è così perché non c'è nessun pathos di disastro all'interno di questo e poi come si fa a fermare un'onda è la cosa più impossibile come si fa a fermare in un'immagine un movimento che proprio per antonomasia di per sé non è bloccabile in un'immagine e poi c'è un altro aspetto e qui entra di nuovo lo scintoismo in lontananza il protagonista sarebbe dovuto essere il Montefugi e invece in realtà è questo cono molto in lontananza e la parte preponderante sono queste tre piccole imbarcazioni che solcano il mare sono imbarcazioni di pescatori evidentemente è l'alba perché si capisce anche da una certa colorazione in fondo alla stampa che stanno portando il pesce siamo in primavera stanno portando il pesce da una costa all'altra questo si capisce anche dall'abbigliamento che indossano queste persone e non c'è nessun pathos drammatico anche se a volte noi vogliamo farlo sembrare come tale ma c'è lo svolgimento e il come posso dire la comunione di sentimenti rispetto a queste persone del popolo persone semplici che stanno facendo il loro mestiere durante una stagione particolare è proprio credo la combinazione fra i colori fra quest'idea in un certo senso di poter dominare comunque di essere parte della natura e di poterla fermare in un momento specifico che ha creato questa grandissima diffusione anche perché non conoscendo il contesto nel quale questa viene rappresentata ugualmente c'è qualcosa credo sia proprio una questione di empatia fra la nostra capacità di essere parte di un ciclo più grande appunto di far parte della natura noi perché bisogna partire dal concetto che l'uomo non è al centro dell'universo come in occidente quindi è la natura che è il centro dell'universo nella stessa pittura cinese raramente si trovano figure umane nei dipinti quando si trovano sono sempre molto piccoli oppure senza i tratti ben definiti perché appunto fanno parte della natura e la protagonista ecco e tutto deve essere appunto come nella pittura cinese anche qui è in armonia e l'armonia è il punto principale al quale tutti devono tendere e questo è proprio poi questo modo anche il contrasto dei colori questo azzurro poi tra l'altro ci sono dal punto di vista tecnico su questo le volevo domandare una cosa infatti è proprio questa domanda allora ovviamente quello che rimane molto impresso è quel non so se sia il blu di Prussia quello il blu di Prussia sì sì esatto cioè rimane impresso questo blu così ricco come posso dire però per esempio quando io ho visto la mostra qui a Roma sì non risultava il blu così intenso sembrava è perché purtroppo allora questo dipende molto dal punto di vista tecnico entro un po' scusate sono un po' noiosa su questo ma ci sono diverse tirature si dice la copia delle stampe sono tutti su matrice di legno in Giappone quindi sono silografie e vengono stampate in diverse copie la copia che è stata esposta nella mostra di Roma non è sicuramente una delle prime tirature per cui anche i colori ce ne sono io ne conosco tre di cui una in una collezione in Giappone due sono in Italia hanno una variazione abbastanza notevole si vede dalla nuvola dietro davanti al Montefugio e dietro alla nuvola non era così forte il blu di Prussia perché evidentemente questo era nella prima tiratura che appunto non è stata esposta è un colore minerale estremamente costoso inizia ad arrivare in Giappone verso il 1820 e quindi pochissimi e avevano accesso a questo tipo di materiale Okusai è proprio uno di quelli che per primo inizia ad utilizzarlo perché evidentemente aveva delle disponibilità economiche ormai pubblicava con Zutai Giuseburo quindi uno dei più grandi editori di tutti i tempi e del periodo Edo per cui sicuramente lui aveva la disponibilità economica per potersi permettere questo tipo di pigmento minerale tanto è vero che poi lui farà tutta una serie di aizuri e si chiamano quindi stampe in blu sempre tutte blu con la maggior parte del colore blu usato con grande con grande profusione è un peccato che non si sia potuta vedere la prima tiratura però appunto E dov'è la prima tiratura? È al Tokyo National Museum ne hanno una e un'altra molto bella è anche al Metropolitan Museum di New York Ah ma quante quante ne sono in giro di queste? Beh appunto io ne conosco for tre o quattro al massimo di tirature belle in giro e altre magari in collezioni private non sappiamo Ah ho capito però ne avranno stampate immagino diverse copie diverse copie sì sì assolutamente era famosissima Volevo dirle parlando del suo libro no la sua traduzione commentata appunto è questo testo di Okusai in cui appunto insegna a disegnare usando le forme geometriche no cioè usando le sfere i quadrati e le linee è una cosa anche molto originale e nella presentazione viene detto che la sua opera sarebbe stata destinata a suscitare entusiasmo nell'abito degli studi nipponici ah le volevo chiedere se poi lei questo entusiasmo lo ha riscontrato se diciamo c'è stato perché del libro esiste anche almeno un'altra edizione che io ho di che aspetta un'edizione più non come la sua commentata che però è stata pubblicata dalla casa editrice vi faccio vedere perché ce l'ho qui cos'è manuale del disegno abbreviato a cura di Fumiko Tanaka e Matteo Pinna lei la conoscerà sicuramente sì sì certo però allora io dal punto di vista filologico io ho fatto una tradizione allora è la prima volta che questi due manuali venivano tradotti e traslitterati dai kutsuji quindi dalla calligrafia corsiva giapponese io le ho traslitterati in giapponese moderno e poi tradotti questo non era mai successo prima quindi dal punto di vista filologico è stata una sfida difficilissima perché appunto essendo scritto in alfabeto fonetico per la maggior parte e non in ideogrammi ovviamente se io l'idogramma capisco esattamente a cosa mi sto riferendo cane scritto con la forma cane e lo leggo in giapponese ci sono moltissimi omofoni e quindi io posso leggerlo Shin può avere 500 interpretazioni tutte plausibili tra l'altro all'interno di questo testo per cui ho cercato di mettere anche le variazioni poi un'altra problematica è stata quella del il riferimento ad un ambito sociale molto particolare cioè quello del periodo della città di Edo e di tutto un mondo di case da te di quartiere di piacere e di frequentazioni ci sono dei giochi di parole che sono estremamente difficili sia da comprendere anche per un pubblico giapponese moderno non sono semplici da capire perché fanno riferimenti per questo dico dottissimi alcuni al confucianesimo tantissimo al buddismo per esempio e anche questi vanno tutti vagliati cioè si fa presto a raccontare le immagini perché poi il testo in sé la traduzione dà delle spiegazioni appunto dice per disegnare una donna io faccio tre triangoli metto uso il compasso e qui finisce però a monte di tutto questo bisogna fare tutto un ragionamento in realtà infatti io per coloro che volessero veramente conoscere meglio consiglio il suo libro perché appunto è un'azione commentata tra l'altro io ci tengo se posso interromperla a dire che è in open access e quindi è scaricabile gratuitamente io ho voluto fare una scelta etica proprio andando controcorrente rispetto a tutto perché adesso è abbastanza comune l'open access ma già quattro anni fa questa cosa non era così accettata ma io proprio ho voluto deliberatamente che fosse disponibile per tutti ed è scaricabile dal sito di edizioni caffoscari ecco e ripeto chi vuole veramente approfondire questo argomento sicuramente il suo testo è il testo di riferimento ma e volevo chiederle anche questo lei ha questi due testi che lei ha riunito sono stati pubblicati nel 1812 e il 1814 ed era praticamente quello che le volevo chiedere è questo dai testi al di fuori di questi manuali di Okusai viene veramente l'idea che lui insegnasse a disegnare in questo modo usando le forme geometriche perché poi quando uno guarda le immagini e per esempio vede una donna vede la bellissima realizzazione di Okusai e poi la scomposizione in figure geometriche allora uno si chiede se prima lui ha fatto il disegno e poi l'ha scomposto oppure lo so questo è un dubbio legittimo allora l'idea di Okusai era quella di poter diffondere il più possibile la sua arte attraverso il divertimento e fare in modo che sembrasse semplice che chiunque potesse applicare questo metodo perché appunto la scomposizione se tutto può essere ridotto a un quadrato a un cerchio e a un triangolo è evidente che chiunque può approcciarsi alla sua arte e a realizzarla e anche io mi sono chiesto poi è ovvio che questo ho cercato anche di applicarlo per esempio a tanta sua pittura e a tante sue stampe proprio per vedere se effettivamente Okusai fosse il primo ad aver utilizzato questa sua metodologia che è innovativa perché credo che noi dobbiamo aspettare fino al futurismo noi in Europa per vedere qualcosa del genere la scomposizione non so di Brancusi per esempio nella scultura per qualcosa di questa scomposizione geometrica e in realtà è evidente che questo è solo è un suo modo di far accostare le persone senza timore anche ad un'arte che sembra così complessa non credo che in realtà lui applicasse questo metodo sicuramente io lo applico ad alcuni dipinti sì sicuramente c'è questa scomposizione geometrica che può essere ricostruita però è chiaro che poi tutto il contorno è tutto l'insieme lui dice perché la cosa principale è il kokoro quindi è metterci il cuore in quello che uno fa a prescindere dal soggetto che uno sceglie e tutto questo è molto importante perché è proprio una disciplina è un allenamento è accumulare tutto quello le esperienze dirette e riuscire ad interiorizzarle è un modo è proprio un do come dicono in Giappone come la via del tè la via del qualunque è la disciplina artistica che attinge e implica anche una crescita morale è questo che a lui interessava e per questo voglio rileggere i manuali in questa chiave perché per raggiungere questi aspetti così complessi anche il disegno può essere una via per conoscere meglio se stessi e per proseguire molto importante il cammino il lavoro che si fa su se stessi io volevo che lei spiegasse ai nostri ascoltatori una cosa che magari potrebbe lasciarli in un primo momento un po' perplessi allora quando noi vediamo per esempio Ocusai ma anche Utamaro per esempio che dipingeva molto le donne le bellezze noi ci aspettiamo che sia un tipo di raffigurazione come quella occidentale dove si tenta di appunto riprodurre i caratteri magari dipingendo anche l'anima come diceva John Newton che era anche un filosofo e un pittore però in realtà nella pittura quando lui dice beltà giapponesi cioè non vi aspettate di trovare un tipo di bellezza quasi fotografica come da noi ma è un tipo simbolica esatto lei ci può spiegare da cosa viene questo certo allora bisogna fare un passo abbastanza indietro cioè parliamo del periodo Heian quindi siamo intorno al 1900 il 1000 dopo Cristo da lì comincia la raffigurazione delle quelli che non dei ritratti sicuramente ma della figura umana quindi tutte le cortigiane non avevano dei tratti specifici delle fisiognomie specifiche perché così ognuno poteva identificarsi con queste immagini quindi la tradizione giapponese deriva proprio dal fatto che il ritratto non è la vera simiglianza non è importante si trovano solo i ritratti i cinso cosiddetti cioè quelli dei monaci buddhisti per esempio che venivano donati ai propri allievi quindi la stessa cosa si creano dei canoni estetici che vengono definiti come tali quindi la beltà femminile quella che in giapponese si chiama bijin poi in realtà bijin non è neanche solo beltà femminile è la beltà persona bella significa quindi possono essere anche i giovinetti i ragazzi anche loro possono far parte del bijin però ci sono dei canoni molto specifici che tra l'altro Okusai in un altro manuale spiega molto bene come devono essere gli occhi quali sono i canoni al quale avvicinarsi per rappresentare la beltà femminile quindi la parte tra l'altro sensuali sono quelle che riguardano il collo non sono mai la nudità non è considerata sensuale perché è considerata normale quindi anche qui ci sarebbe un discorso molto lungo da fare sull'appunto su pornografia sulle stampe erotiche eccetera perché è un tipo di bellezza molto particolare certo i canoni estetici sono dipende anche dalle scuole pittoriche la scuola Utagawa per esempio che è quella di Hiroshige per spiegarci decideva che la beltà femminile derivava dai volti piuttosto lunghi delle donne sempre truccate in un certo modo con rasate le sopracciglie fino ad un certo periodo questo succedeva vedevano ridisegnate molto più in alto sulla fronte era molto importante che i capelli fossero lunghi almeno come la persona questo dal periodo Heian in poi e poi raccolti in queste se erano delle cortigiane in acconciature molto particolari perché tutto ruota attorno invece all'abito quindi al kimono quella è il mio biglietto da visita rispetto al mondo il corpo quasi sparisce al di sotto di questa forma che è molto canonizzata si presta una grandissima attenzione ai tessuti all'abbinamento dei colori questo anche è un retaggio del periodo precedente tutto deve essere intonato alla stagione all'occasione questo non è l'apparenza superficiale questo mi dice moltissimo della persona che io ho di fronte anche il modo di abbigliarsi le geisha per esempio queste cortigiane che erano donne bellissime appunto secondo i canoni giapponesi portavano per esempio l'obi questa grande fascia annodata davanti a differenza delle mogli dei samurai o dei daimyo che invece avevano un abbigliamento altrettanto ricco ma portato in un modo un po' diverso e poi non bisognava le mani ovviamente le braccia gambe sempre coperte infatti una parte sensuale ripeto è quella del collo per cui il kimono resta un po' aperto dietro o al massimo si può intravedere quando incedono in questo lungo viale all'interno del quartiere di piacere si vede una parte del sandalo del tabi del piede coperto oppure con un colpo di vento si apre un po' il kimono e si vede una parte della gamba già questo è un suggerimento molto sensuale però il corpo anche qui sarebbe interessante fare un discorso sull'importanza del corpo in oriente e in occidente nella rappresentazione del corpo perché da questo derivano chiaramente tante conseguenze anche dal punto di vista estetico sì io volevo anche dire ai nostri ascoltatori e soprattutto se ci sono ascoltatori più giovani perché comunque questo podcast non va soltanto sulla mia newsletter tradizio ma viene poi trasmesso su Apple Podcast su Spotify YouTube quindi potrebbero essere che se a voi come credo piacciono i manga e comunque guardate che Okusai è un po' il precursore diciamo di questo genere e quindi è comunque qualcuno a cui dovrei io quando ho visto i manga di Okusai ho detto ma guarda e dico allora ho capito i manga moderni ho capito perché i manga sono in quel modo perché veramente c'è un grande richiamo nei manga moderni appunto a questa arte di Okusai volevo dirle ho altre due tre domande prima che avviarci alla conclusione la prima è questa la nostra newsletter è una newsletter che si occupa specialmente di tradizione tradizionalismo e di questi temi e diciamo allora volevo chiedere qual è il rapporto di Okusai con la tradizione allora il rapporto è fortissimo naturalmente perché lui conosce perfettamente tutte le scuole pittoriche non solo che l'hanno preceduto anche la tradizione chiaramente lui attinge a piene mani alla tradizione cinese soprattutto per esempio mi viene in mente la rappresentazione di questi grandi manuali che lui fa sulle rappresentazioni dei guerrieri per esempio o tutta una serie di figurazioni che riguardano storie famose cinesi che vengono conosciute anche in Giappone che vengono reinterpretate per esempio molto a che fare col confucianesimo quindi con la lealtà la storia dei 47 Ronin per esempio il Chushiguro cosiddetto che lui rappresenta oppure altre altre storie che riguardano proprio i guerrieri e poi la tradizione autoctona giapponese sia dal punto di vista letterario lui cerca anche semplicemente con dei piccoli espedienti con dei piccolissimi riferimenti ma appunto che un certo tipo di cultura li coglie immediatamente alla tanta letteratura giapponese quindi al Genji Monogatari il racconto del Principe Splendente tutte le storie dei cortigiani e poi dal punto di vista pittorico anche lì tutta la tradizione giapponese è basata dallo studio della pittura cinese sicuramente in primis e poi con questa il Giappone ha questa grandissima capacità di assorbire tutto ciò che proviene dall'estero di rielaborarlo senza mai abdicare alla propria cultura quindi c'è sempre un rinnovamento della tradizione nella modernità questo avviene per esempio con la scuola cosiddetta rimpa del decorativismo nel 1600 con questi sfondi dorati questa ripetizione continua di stilemi decorativi che Okusai naturalmente riproduce e conosce benissimo e quindi lui raccontando per esempio anche leggende o storie tradizionali anche tutta la parte che riguarda i fantasmi i mostri i yokai che sono molto conosciuti anche adesso sono molto attraenti anche per il pubblico più giovane Okusai li trae da storie che sono storie della letteratura giapponese oppure da dei racconti molto famosi molto conosciuti in Giappone dando sempre un tocco di grande contemporaneità dove si può e di grande novità e quindi per questo è anche ancora però è anche interessante che Okusai paradossalmente pur essendo famosissimo in Giappone lo diventa ancora di più quando viene conosciuto in Occidente quindi quando alcune opere arrivano verso a parte con con le grandi mostre ma poi dal 1854 più o meno viene conosciuto in Giappone in Occidente e io lo chiamo il giapponismo di ritorno per così dire quando l'Occidente lo celebra poi ritornato in Giappone la sua fama aumenta ancora di più in maniera sproporzionata sì poi c'è da dire che questo si nota spesso nei grandi pittori che esiste comunque sempre una buona contaminazione cioè i grandi pittori sanno comunque prendere il buono dove lo trovano quindi questo è chiaro credo che sia un aspetto importante di Okusai e anche un aspetto importante di uno dei purtroppo non ricordo il nome ma uno dei più grandi pittori cinesi quasi contemporanei a noi che anche ha comunque voluto appunto attingere all'Occidente per arricchire la sua arte quindi questo credo sia importante qualunque cosa diventa uno stimolo per la propria creatività io credo ci siano già dei germi latenti che poi vengono proprio stimolati dall'incontro con il diverso con il nuovo questo è molto interessante proprio perché si dice il Giappone era un paese chiuso sakoku però in realtà non è non è così vero da altri punti di vista perché c'era una circolazione comunque di idee di spunti stimolanti come dicevo che poi un artista sa interpretare a suo modo sì questo appunto credo che sia molto importante per far capire anche a tutti coloro che pensano diciamo all'arte orientale come un'arte completamente chiusa in se stessa quando in realtà c'è comunque un interscambio eh sì è esattamente questo è questo poi in un mondo globalizzato come adesso a maggior ragione questo deve diventare un mezzo di comunicazione di comprensione perché il diverso ci arricchisce sempre e quindi è la stessa cosa che in epoche non sospette anche questi grandi artisti che sembrano chiusi in un mondo dorato e separato perché comunque il Giappone è lontano è veramente un arcipelago lontano da qualsiasi nostra anche concezione più occidentale da tanti punti di vista dal punto di vista linguistico filosofico figuriamoci artistico ma comunque credo che ci siano degli stimoli anche per noi insomma per chi ha voglia di sentirlo sicuramente può è un modo diverso di percepire anche la realtà io trovo che questo sia stimolante per chiunque anche nel mondo contemporaneo certo e avviandoci alla conclusione volevo dato che le abbiamo nominati parecchio nella nostra discussione di solito la criade dei pittori famosi giapponesi c'è ovviamente Okusai e poi c'è Utamaro e Hiroshige ecco si potrebbe dire qualcosa su Utamaro e Hiroshige almeno per conoscerli così diciamo per chi poi volesse approfondire certo tutti e tre operano siamo sempre nel periodo Edo nella seconda parte del periodo Edo anche Utamaro e Hiroshige sono dal settecento in poi diciamo Utamaro è il grande maestro della figura femminile lui si occupa non solo di rappresentarla appunto le figure femminili legate ai quartieri di piacere ma lui è interessato proprio allo studio psicologico della donna di tutti i ceti sociali quindi anche non le donne che fanno parte del quartiere di piacere ma anche donne semplici lui fa tutta una serie sul ama molto le catalogazioni come amano i giapponesi e quindi partendo dall'osservazione del mondo naturale poi lui fa questo tipo di catalogazione una specie di catalogo della bellezza in diversi strati sociali in diverse aree anche del Giappone anche questo è un po' particolare con grande interesse chiaramente per il risvolto psicologico con piccole movenze con un cenno magari una mano posta in un certo modo lui dà un messaggio molto chiaro del travaglio anche di queste beltà femminili che poi in realtà appunto nel quartiere di piacere non è che fossero tutte rose e fiori per così dire la vita era molto complessa e Hiroshige è considerato spesso come il grande maestro e sicuramente lo è delle rappresentazioni del paesaggio fa queste serie paesaggistiche però con un approccio che è completamente diverso da quello di Okusai sicuramente lui si basa sulle vedute del Fuji famosissime di Okusai però le rinterpreta in un modo più romantico se così possiamo dire non c'è quasi mai l'interferenza diciamo così delle persone non interagiscono all'interno del paesaggio sono veramente immagini del mondo che ci circonda lui fa due viaggi anche a seguito dello spostamento del famoso San Kinko Tai che è questo spostamento che i Daimyo dovevano fare due volte all'anno nella capitale erano una residenza obbligata all'interno della capitale e Hiroshige segue uno di questi e lo rappresenta in tutte località che da quel momento in poi diventano iconiche e famosissime ci sono le stazioni di posta nelle quali questo lungo corteo si fermava per raggiungere da Kyoto a Edo e viceversa e c'è questa atmosfera appunto molto romantica molto soffusa anche l'ambientazione sempre in momenti particolari della giornata con delle luce una luce particolare che su queste sui viandanti per esempio sono piccoli momenti di vita quotidiana molto affascinanti perché è proprio un approccio diverso alla stessa strada che aveva rappresentato Okusai ma con lo spirito del con questo fuggi sempre in lontananza che è il il guardiano diciamo del del viandante Sì di Fuggisan Infatti San all'onorifico è un monte con il nome con l'onorifico non è casuale Allora io voglio ringraziare la professoressa Silvia Vesco per aver partecipato al nostro podcast voglio ricordare a voi il suo libro Spontanea Maestria il Ryakuga Hayao Shie di Katsushika Okusai pubblicato a Venezia dalle edizioni Ka Foscari vi consiglio come ha detto la professoressa è anche disponibile in open access quindi lo potete leggere ed anche se non siede dei pittori disegnatori comunque vi inserisce in un mondo estremamente affascinante come è quello dell'arte giapponese ed è anche devo dire diciamo quello dell'arte orientale in genere che ovviamente è poco conosciuto quindi grazie tante professoressa per la sua partecipazione e per il suo contributo anche di divulgazione di questi temi che a mio avviso sono estremamente importanti ma grazie a voi dell'ospitalità veramente sono sempre a disposizione anche se volete io ho una mail quella dell'università Vesco Chiocela Univeit per ulteriori domande e approfondimenti resto a disposizione con grande piacere grazie tante e buona giornata grazie 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 a tutti